Ben trovati da Cobat TV, torna alla rassegna stampa, selezione delle principali notizie della settimana. Oggi parleremo del pacchetto Economia Circolare che adesso è legge anche in Italia, ma anche di nomine al Ministero dell'Ambiente, Batteria, Litio e dei nuovi corsi di Cobat Academy. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è in primo piano questa settimana. Economia Circolare, pubblicati i decreti su RAE, pile esauste, veicoli fuori uso, Ministero dell'Ambiente alla direzione Economia Circolare va Laura D'Aprile, Batteria, Litio, Cobat tra i 16 membri italiani su 400 dell'alleanza europea e infine Cobat Academy al via il corso per la gestione delle batterie a litio. Cominciamo la nostra rassegna stampa dando l'ufficialità. Entreranno in vigore a breve tra il 26 e il 29 settembre i vari provvedimenti, i quattro nuovi decreti legislativi che attuano il pacchetto europeo sull'economia circolare. Si tratta di provvedimenti che riguardano rifiuti a imballaggi, pile esauste, RAE, veicoli fuori uso e discariche. Le norme introducono novità importanti come il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore, la spinta sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, la creazione di nuove filiere virtuose per il recupero di particolari residue. Vi invitiamo a consultare direttamente i provvedimenti scaricabili tramite la nostra newsletter. Cambiamo argomento anche se in realtà è soltanto uno slittamento. Continuiamo a parlare di economia circolare ma anche di nomine. Il nuovo direttore, anzi la nuova direttrice generale per l'economia circolare del Ministero dell'Ambiente ha finalmente un nome. Si tratta di Laura D'Aprile, ingegnere già dirigente del Dipartimento di Tutele Ambientale di Roma Capitale. In precedenza ha guidato la divisione bonifica e risanamento del Ministero dell'Ambiente ed è stata responsabile dei siti contaminati per Ispra. Ricordiamo che la direzione generale per l'economia circolare è frutto della recente riorganizzazione amministrativa del Di Castero. La nuova direttrice si occuperà della promozione delle politiche per la transizione ecologica ed economia circolare, della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero, nonché della pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti. E adesso cambiamo davvero argomento, parliamo di innovazione, parliamo di batterie a litio, di nuove frontiere del riciclo. C'è anche Cobat tra i 16 membri italiani della European Battery Alliance, l'iniziativa lanciata tre anni fa dalla Commissione europea con l'obiettivo di sviluppare una filiera delle batterie a litio nel vecchio continente. Una presenza italiana ancora sparuta, ad oggi sono circa 400 i soggetti aderenti, ma significativa. Ci sono tra gli altri Enea, RSE, Eterna, Enel, Centro Ricerche Fiat, il Politecnico di Milano e molti altri. E c'è anche Cobat, da tempo impegnato con molte delle realtà appena citate nel trovare una soluzione efficiente per il riciclo e la seconda vita delle batterie a litio. In conclusione, l'impegno di Cobat non riguarda soltanto la ricerca, ma anche la formazione. Adesso, infatti, con Cobat Academy, la nuova piattaforma dedicata alla formazione, alla consulenza e alla condivisione di know-how, Cobat è vicino alle aziende che puntano su innovazione, nuove opportunità e nuovi modelli di business. Si tratta, lo ricordiamo, di corsi in presenza e da remoto, a calendario e a catalogo, multiaziendali e attivabili a richiesta di ogni singola impresa. Un'offerta che è vasta e che include la formazione obbligatoria e le nuove sfide delle imprese che operano in un contesto economico, tecnologico e sociale in continua evoluzione. Ricordiamo il primo corso al Via di Cobat Academy, la gestione delle batterie a litio nel settore automotive, dedicato ai manager del settore automobilistico, delle auto ibride ed elettriche. L'obiettivo del corso è fornire conoscenze e competenze specifiche di carattere legislativo, normativo e gestione operativa delle batterie a litio. Ricordiamo che il corso è a calendario il 24 e il 25 di settembre. Per maggiori informazioni vi invitiamo ad andare sul nostro sito dedicato academy.cobat.it E questa era l'ultima notizia della settimana, la rassegna stampa torna come al solito giovedì prossimo a partire dalle 14.